La stagione della vita E ci stanno dimostrando responsabilità e capacità creative in questo particolare tempo di pandemia E anche a quella vocazione un po' particolare e di tempo che è il volontariato A tanti volontari che sono ricresciuti anche di numero oltre che di qualità Ecco in questo modo, credo, possiamo veramente insieme Sentirci tutti dello stesso gruppo, della stessa comunità Dello stesso gregge con il Signore nostro Pastore Pastore buono e bello Che passando attraverso di Lui, ascoltando la Sua voce e seguendolo Otteniamo vita e vita in abbondanza Per noi, per chi è nel bisogno Per l'intera società e per la Chiesa Amen